E' bello a tutti scuole perciolini e benvenuti a questo nuovo video che sono Satisfacciati dei Terran Sharks, oggi siamo qui su Rainbow Six E vabbè ragazzi quello che volevo dirvi è che ci dispiace, mi dispiace che non stiamo pubblicando video Ma stiamo tutti quanti impegnati come lo schifo quindi non riusciamo a fare niente Adesso sto portando così una partita veloce in casual che è già iniziata addirittura Giusto per dirvi che ci dispiace veramente, cercheremo di portare video il più possibile E' soprattutto forse video se riesco a fare poche stream ma anche cioè no, non lo so ci provo Vedremo e vediamo come andrà la cosa Ciccio Non so perché l'audio mi sbagliato quando uso i PS non sento più niente Ah ecco che avevo abbassato il volume Ecco perché non sentivo niente Giustamente sa questa base di volume Ragazzi io sono un hub su Rainbow Six Faccio veramente cagare Appunto sono un silverino Oddio comunque l'ho preso da poco quindi comunque Diciamo che non prendete esempio da me Da me? Ah no Potete prendere esempio da me Delle cose da non fare Esatto Quindi ciò che faccio voi non lo fate Perché sapete che Che ne è brutta scelta Ho l'audio bugato Non sento un cazzo io Però vabbè Vabbè Troviamo sto cazzo di contenitore dei bioris Che fai? Ok Dov'è? Sopra Tirum Stanno in tirum Ah No Sono moruto Zaguarudo Sono moruto E scusate se sei bloccato Stavo vedendo se stesse registrando Zaguarudo C'è uno vigil 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 Il vigile Il vigile Insomma hanno il vigile Dove cacchio sta qua? Banana boy Banana boy Che sta facendo? Perché c'ha 300 Ah ok ha una kill Giusto Che era già iniziale La partita Me ne ero dimenticato E non mi ricordo anche dove cacchio stanno le Le telecamere Quindi Ah ok c'è una qua C'è una qua Oh sta qua Ah ecco Ok Gli altri dovrebbero Avere spettato l'altra Andiamo sopra Non so se riesco a Far stream Ragazzi Ci proverò Se non sapete Che cosa fa Jakar Semplicemente Rileva le impronte Che sta Che vede a terra Insomma Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Buttiamo il drone qua dentro Da dove cacchio mi ha sparato Ok dalla destra Che è? Ok è quello 18 che si muove Crepato L'ho visto muoversi da quella parte Ho uno spunto di vita Stai là da quella parte Non ho più il drone Quindi sti cacchi Dovrei entrare Però Eh ragazzi Lami la patata No non ci posso credere Non ci posso credere Sto Vigil Che cazzo What? Vabbè La visuale è vagata Non so perché Vigil è che stronzo Non ci posso credere Io che ho La Lame la patata E vabbè Però Come avete visto Uno sono un cesso Due Ho pochissimi operatori Perché in realtà Mi sto conservando i soldi Tipo 50.000 Per prendermi Gli operatori I italiani Che stanno per uscire I carabinieri Praticamente Non so se mi compro Season pass È quella La mia domanda Me lo compro O non me lo compro Sta a 30 euro Un po' troppo Secondo me Per Per ciò che da Da due operatori Più 600 crediti Grigili È un po' poco Secondo me Per 30 euro Se lo abbassano Sicuramente lo prendo Tipo A 20 si può fare Ma a 30 è un po' troppo Secondo me ragazzi C'è Un po' troppo Un po' assai troppo Ah sì Sto usando L'FMG Cosmoke Non mi giudicate Lo so che è molto Mello col Col pompa Solo che Ho trovato la skin Prima Quindi Uso questa Questa Dove Uso Dov'è Che cazzo Eccolo il drone Visto il movimento Eccolo Bam Il movimento Sexy Io Do cazzo Deve essere Un'ultima Crepare Quindi Devo Praticamente Camperare Sushi Ma di sushi No Vabbè E Tp No Attento Sta là Lo sto doc H Ok Le telecamere Le hanno Hackerate Ora Lo sappiamo Ok Sono 4 V3 No Stavo Per La La Smoke No L'ha ucciso Col Non ci posso Credere Ok Ce l'abbiamo La No cazzo L'ho messo male No E niente ragazzi Sono Sono un deficiente E niente ragazzi Era Giusto Una partita Veloce Per Scusa Del fatto Delle partite Eccetera Eccetera Per farvi Vedere Quanto Sono accesso Su questo gioco E niente Ragazzi Che dirvi Ci vediamo Nel prossimo video In un prossimo stream Quindi ragazzi Tenetevi aggiornati Su twitch Perché Ora proprio Proverò A streamare Ora sarebbe Ora Sarebbe Il 24 Quindi Vedrò Come va Ciao Ciao Faccio Scrivete Sì A Sì Grazie a tutti.